Noi andiamo lì e ce la giochiamo come abbiamo fatto con tutte le squadre e poi se riusciremo a portare a casa qualcosa di importante siamo sicuramente ben felici. Vincere contro queste grandi fa sempre piacere perché sono partite che poi rimarranno nella storia perché non è solo che vince contro la Juve, non succede tutti gli anni quindi sarà sicuramente una bella partita e cercheremo di ripetere il risultato dell'andata. La Juve sono ormai 4-5 anni che viaggia a questi ritmi, la conosciamo tutti, è una corazzata e non sarà facile però anche noi abbiamo dimostrato che soprattutto con le grandi diamo fastidio quindi speriamo di dare fastidio anche a loro venerdì. Sono giocatori abituati a giocare determinate partite, partite ravvicinate quindi non penso che i loro obiettivi siano al di là di venerdì. Venerdì affronteranno la gara al 100% e poi penseranno a quella della Champions. Domenica è stata una partita positiva sotto certi aspetti ma negativa sotto altri perché abbiamo perso tre giocatori in un unico match però sicuramente abbiamo una rosa ampia e chi sostituirà i ragazzi farà sicuramente bene. Penso che le prestazioni ci siano sempre state, forse ci è mancato un po' di fortuna e gli episodi avevano condizionato secondo me delle gare anche fatte nel giusto modo. Adesso veniamo da tre vittorie di fila che sicuramente ci danno morale, ci danno classifica e andiamo lì con la spensieriatezza che dobbiamo avere perché comunque abbiamo una classifica che ci sorride e quindi dobbiamo essere tranquilli sotto quel punto di vista. Adesso il primo obiettivo che era quello che avevamo prefissato quest'estate l'abbiamo raggiunto penso e anche se la matematica ancora non dà queste certezze però diciamo che la salvezza l'abbiamo messa in cassaforte adesso ci divertiamo poi quello che avviene viene nel senso è ovvio scendere in campo ogni volta con l'obiettivo di vincere e quindi di prefissarci dei piccoli obiettivi e non un obiettivo grande io penso che andare avanti con piccoli passi sia la cosa migliore. Grazie